Ciao ragazzi, qui Mike. Oggi finiamo il percorso di The Rain After The Snow con l'ultimo brano, Fragments of a Broken Dream. Fragments è un brano strumentale e in quanto tale, anche se non ha una vera e propria storia da raccontare, credo che comunque la potenza delle note sprigionate in questo pezzo renda a suo modo più di mille parole. Fragments è il capitolo finale dove convergono tutte le emozioni che abbiamo incontrato in questo pezzo. Abbiamo attraversato gli abissi dell'anima e le lande dei giornali della prima, il sussulto dei ricordi più intimi che della fanciullezza ci hanno portato fino all'oggi. Abbiamo raccontato di eroi miseri, di guerrieri di viacchi che hanno barattato la propria vita per ritrovarsi poi alla fine del viaggio prigionieri della propria solitudine. Ma abbiamo parlato anche di speranze, di coraggio e di cose preziose. Quelle che tante volte vengono davanti ma che spesso non riusciamo né a vedere e né a percepire. Fragments ci racconta di questo viaggio dall'inizio in cui si è partiti fino ad arrivare là dove si pare che non si attelare su questa storia. Una storia che tra tormenti e speranze mi auguro sia riuscita anche per un solo istante a toccare le corde della vostra anima. Ciao